I due erano quando Borriello fa con le due mani così alla faccia di Borriello, veramente emozionato, così, i due partiti disqualifica. L'altro lo insulta di tutto, gli fa così di un modo molto carignoso, non succede niente, è un'immagine di tv veramente bella. Come un terremoto, dopo la scossa principale domenica sera calda, arrivano quelle...